Musica Amici sportivi appassionati di calcio a 5 e di mondo futsal Ci troviamo qui al Palaparca per la fase finale dell'ATM Cup della Lega Fuzzal Amatori Latina Più cordiale e buongiorno da Daniele Porcelli con le squadre che ormai si sono già portate al centro del campo Manca soltanto il fischio d'inizio e dopodiché si inizia la ATM Cup Lega Fuzzal Amatori Si parte così Toscan Roma Scambia con Fascione In mezzo Prova Roma ad andarsene La chiusura di Mustafa Poi Roma C'è Carelli si avvita Va verso il palo a calciare dove è ben appostato Fonte Maggi Corsia di destra Ha libero un barco Possibilità per andare allo scambio con Petriani che si gira C'è la parata di Carrucci Petriani prende ulteriormente distanza Parte la sua rincorsa Tiro direttamente Palla fuori di poco dallo specchio della porta Adesso la palombella con ceccarelli Il gol del vantaggio della città di Anzio E ceccarelli porta in avanti Adesso subito la replica Roma C'è Bellizia Prova il diagonale Si può tornare a giocare Petriani Il fendente Dove Carrucci però Risponde presente Poi arriva il gol Il pareggio di Cocuzza del capitano del Nettuno E si va sull'uno a uno Fa buona guardia Petriani Poi Manu Dalla distanza Si rifila un po' troppo Bellizia Ancora ceccarelli Va a calciare Fuori di poco Bellizia Ceccarelli Si avvita a fascione In un secondo tentativo È arrivato anche Fonte Maggi Ora si va a vedere Bellizia Sulla sinistra Si accentra Ceccarelli all'indietro per Toscan Che si avvita Scivoli Poi si alza il pallone Si impegna Ceccarelli Scivoli Scambio tra i due Va via Ceccarelli Poi si accentra Carica il tiro Fa praticamente molto Poi possibilità Con Noce Nel tap-in Che però non si concretizza Toscana L'imbucata Verso fascione C'è Cucuzza Poi la spaccata di Fonte Maggi Ad allontanare il pallone Chiriacuo Verso Petrianni Petrianni a tu per tu Con Carucci Pallone sbarrato Con Petrianni Che può ripartire Si avvita Arriva Mustafari Carica il mancino Eh Si fa neutralizzare il tiro Facione Palla si impenna Toscana Il vantaggio Del città di Anzio Mustafà Cocuzza Si avvita Toscana Facione Prova Non trattiene Fonte Maggi Pallo la palla Che esce fuori Mustafà Petrianni Mustafà Cocuzza Cocuzza Facione Gli porta via il pallone 3 contro 1 Toscana In mezzo per Ceccarelli 3 a 1 Città di Anzio Riesce a scambiare con Mirko Petrianni Tenta di andarsene Il palo Il palo Che gli dice di no Nelle sue intenzioni Ceccarelli Petrianni E poi Il gol Evitato da Mustafà Toscana invece Ci recupera Riparte Fa partire noce Dalla parte opposta C'è Bellizia In uscita Arriva Mustafà Toscana E Fonte Maggi Ancora Finisce Qui Città di Anzio Prosegue la sua corsa Verso Il raggiungimento Della L'ATM Cup La Lega Fuzza All'Amatori Battendo Il letto 1 3 a 1